Si chiude un anno, tra poco entreremo nel 2017 e l'auspicio così come accade sovente è che i prossimi 365 giorni possano riservare sorprese, in senso positivo si intende per l'intera comunità giolese, una comunità che spera ancora nell'attuazione del progetto di riconversione dello stabilimento Eni, così come concordato il 6 novembre 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico. Il Colosso Zezampe sostiene di aver avviato numerosi cantieri, ma al momento attuale purtroppo tanti operai, soprattutto dell'indotto, hanno fatto le valigie accasandosi altrove. Lo scorso 11 novembre i vertici di Eni hanno dato il via ad un cantiere per procedere al risanamento ambientale dell'area, un investimento da 50 milioni di euro, un'area che si stende per circa 10 ettari e che presto diventerà come un grande campo di calcio. Ma prima non sono mancate le proteste con i cortei oceanici che hanno invaso il perimetro urbano. Era il 26 gennaio quando Gela si è in piazza contro la chiusura della raffineria Eni e la mancata riconversione. Prima ancora, era il 19 gennaio, si registrarono blocchi sulle strade di accesso alla città. Per mancanza di lavoro, il 5 giugno scorso, un operario della SMIM minacciò di buttarsi giù dal tetto di un capannone incontrata a Piana del Signore. In ambito politico, l'anno che sta per lasciarci, ci consegna l'espulsione del sindaco di Gela, domenico messinese, dal Movimento 5 Stelle. Una decisione maturata alla fine del 2015 e confermata all'inizio del 2016, dettata, così come sostendero i grillini, per essere venuto meno agli obbligi assunti con l'accettazione della candidatura, dimostrandosi totalmente fuori asse rispetto ai principi di comportamento degli eletti e anche alle politiche ambientali, energetiche e occupazionali più accreditate in ambito europeo. Messinese, il 12 dicembre scorso, ha presentato un nuovo progetto politico, chiamato Sviluppo Democratico, progetto comune. Il 2016 ha fatto registrare anche le liti interne al PD e le scaramucce in Consiglio Comunale. Le pagine di Cronaca Nera hanno raccontato di terribili episodi, l'ultimo dei quali, martedì scorso, con il duplice infanticidio di due piccole bimbe strangolate dalla madre. Non possiamo dimenticare, l'atroce fine era il 29 luglio, di una donna di 39 anni, arsa viva dalle fiamme, che distrussero la propria abitazione di Via Novara. Come non possiamo dimenticare la morte di una 56enne coinvolta in un incidente stradale sulla Gela Manfria il giorno di venerdì santo. Era il 25 marzo. Il 23 settembre una donna di 33 anni si uccise lanciandosi in mare con la sua auto, una lunga scia di suicidi. Nel 2016 c'è stato anche un tentativo di omicidio in Piazza Martiri della Libertà. L'esecutore fu arrestato dalla polizia. Anche se il dato si è naturalmente abbassato rispetto a prima, non sono mancati gli incendi delle auto. Il 19 ottobre scorso un rogo rase al suolo una distributore di carburanti in via Niscemi. L'anno che sta per lasciarci ci consegna anche numerosi arresti, soprattutto in ambito di contrasto alla detenzione e allo spaccio di droga, con relativi sequestri di tonnellate di sostanze stupefacenti. In ambito giudiziario c'è registrare l'avvicinamento in capo alla procura tra Lucia Lotti, adesso Roma, e Fernando Asaro, giunto da Caltanissetta. A Gela è ritornato anche il GIP Lidio Conti. Avvicinamenti anche nei carabinieri tra Valerio Marra ed Antonio De Rosa. L'anno che sta per concludersi è stato contrassegnato dalla perdita per cause naturali di Monsignor Grazio Labbiso, Giavicario Foranio. Era il 16 ottobre. Il 24 luglio i gnoti imbruttirono le strade di Scavone scaraventando a terra cumuli di spazzatura contro il servizio della differenziata. L'anno che sta per chiudersi è fatto registrare per l'insabbiamento dei fondali anche due episodi di incagliamento di imbarcazioni al porto rifugio con relativo salvataggio degli occupanti. Era il periodo di ferragosto. Il 20 agosto la zona balnearia di Manfria ebbe l'acqua potabile grazie alla costruzione di un nuovo acquedotto. A Gela il 29 settembre c'è stata anche la prima unione civile. Hanno coronato il loro sogno d'amore Salvo Pasqualetto e Gianni Anzaldi, 27 e 41 anni. Nel 2016 c'è anche da ricordare l'inaugurazione nella caserma dei carabinieri di una stanza tutta per sé nell'ambito di un progetto promosso dal Soloptimist Club per accogliere in un ambiente idoneo le donne vittime di violenze fisiche e psicologiche in ambito sportivo. Il gelacalcio ha ottenuto la promozione in Serie D dopo una cavalcata triunfale e il Terra Nova è stato ammesso in eccellenza.